48 ore la partita di sabato in campionato in anticipo, ore 15 contro lo Sporting Terni per l'Arezzo che dovrà fare a meno di Martinez, squalificato e anche di Sereni. Stiramento al collaterale per lui rientrerà probabilmente mercoledì in Coppa a Torre del Greco. I sostituti sono già in campo per quella che ha la probabile formazione, Zuppardo in attacco al posto di Martinez e La Rocca invece sull'esterno di sinistra in difesa. Dovrebbe giocare calzola nonostante il taglio al braccio che si è procurato a Trestina e la fasciatura protettiva, ma il terzino è stato provato regolarmente da Nofri nella formazione che si sta allenando qui allo Zampolin. Quella di sabato contro lo Sporting è la prima partita di un trittico che dirà molto sul futuro della stagione a Maranto perché poi mercoledì a Torre del Greco c'è l'andata delle semifinali di Coppa. Arezzo che deve guadagnare l'accesso alla finalissima per poi poter subentrare dentro i playoff a fine stagione e poi domenica prossima la trasferta a Viterba. Un Arezzo che va in cerca sabato della terza vittoria consecutiva, un'impresa che manca addirittura dalla stagione 2009-2010. Era l'Arezzo di Galderisi che vinse contro l'Alessandria, contro il Monza e poi contro il Levarese, impresa che non si è mai ripetuta. Arezzo che però arriva alla partita di sabato con il Morale alle stelle dopo le vittorie contro lo Spoleto. 3-0 in casa e soprattutto dopo l'ultima affermazione in trasferta a Trestina, un 4-0 che ha portato gli Amaranto un punto sopra la zona play-out.